Benvenuti nel mondo degli orologi Bertolucci. Bertolucci è uno dei marchi di orologi più raffinati e prestigiosi al mondo, con una storia che inizia in Toscana e prosegue in Svizzera. Fondata da Remo Bertolucci, la casa orologiera è stata portata al successo grazie alla passione per l'orologeria e alla maestria artigianale degli orologiai svizzeri. Remo Bertolucci è un toscano, che ha fatto della sua passione per l'orologeria una vera e propria arte. Sin dal principio, Bertolucci ha avuto una grande attenzione per la qualità e per la bellezza degli orologi, che ha fatto della sua ditta uno dei marchi più raffinati e ricercati in Svizzera. La vera forza di Bertolucci è l'attenzione per l'innovazione tecnologica, che ha portato il marchio ad essere all'avanguardia nel settore dell'orologeria svizzera. Ogni orologio Bertolucci è infatti un pezzo unico, caratterizzato da un design raffinato e originale, che ne fa un oggetto di culto per gli appassionati di orologeria di tutto il mondo. Ma non solo. Grazie alla grande attenzione per la qualità, gli orologi Bertolucci sono anche sinonimo di affidabilità e di durata nel tempo. Bertolucci è il marchio di orologi di lusso che unisce la Toscana e la Svizzera. Insomma, se cercate un orologio di alta qualità, con una forte attenzione per la bellezza e per l'innovazione tecnologica, Bertolucci è il marchio che fa per voi.